Abbiamo preso l'amido di mais, una ciotola e dell'acqua. Abbiamo mischiato. Quando la prendevi in mano? Era durissimo. Abbiamo impastizzato tutte le mani e abbiamo fatto una colpetta. La tenevi in movimento, era dura. Si riusciva a prendere. Quando lo lasciavi diventava di nuovo liquido e cadeva tutto liquido. Scopri di più sul sito di Ricerca Mondo.